Ala, Avio, Brentonico e Mori sono le quattro giurisdizioni medievali che danno il nome ai quattro vicariati. Un vino rosso da uve Cabernet Sauvignon con un'integrazione di Cabernet Franc e Merlot, il tipico taglio bordolese che dà vita a grandi vini trentini. Grande equilibrio per questo vino che sprigiona note inizialmente di tabacco, speziatura, more e trame rosse, ma la sua grandezza è proprio nella sua parte sapida e morbida nel finale. È un vino che si fa bere, nel senso che quasi non ce ne accorgiamo e vogliamo già nuovamente essere lì a riempire il nostro bicchiere. Questo è un segno tipico dei vini molto ben equilibrati. Gli abbinamenti possono essere tanti, fra i più facili da portare a tavola un plateau di formaggi stagionati e confetture, ma benissimo anche con dei primi piatti con ragù di carne.